È stata una campagna che si era iniziata da gennaio-dicembre perché si prevedeva di votare a maggio. Poi il Covid, tutto quello che è successo l'ha fatta scivolare fino a settembre e diciamo che è stato, perlomeno per quello che mi riguarda, una campagna elettorale molto soft. Vorrei solo dire una cosa, il giorno sabato che il silenzio elettorale, ma si sa che il silenzio elettorale non esiste, si passa nei paesi piccoli, nelle case, io sono stato a trovare le persone anziane, ma veramente le più anziane, che hanno contato qualcosa nella mia vita, sia nella formazione, sia nell'insegnarmi un modo di vivere. È un modo di vivere, siamo stati parecchie ore insieme in queste case, con queste persone, per cui l'ho vissuta in maniera molto soft, molto leggera, senza essere né aggressivo né usare dei toni al di sopra delle righe. Per quanto riguarda la riconferma sindaco d'Isola del Piano, adesso gli interventi riguarderanno le piccole attività del Comune per la loro sopravvivenza anche a causa del Covid? Noi di piccole attività nel Comune abbiamo alcuni artisti e artigiani che lavorano e fanno dei grandi lavori oltretutto, se no noi abbiamo due attività molto forti, abbiamo le lecci mobili che impiega circa 200 o più dipendenti, che ha diverse strutture, capannoni sparsi nella provincia e poi abbiamo anche la cooperativa Girolomoni, che è una cooperativa che opera dagli anni 70 nel settore del biologico, che dà lavoro a 70 persone con il suo pastificio e il mulino, per cui noi cerchiamo di andare incontro alle realtà di queste due aziende, perché essendo piccolo il Paese però ha delle attività produttive che sono riconosciute a livello mondiale. È naturale che devi sostenerle, devi cercare di andare incontro con delle agevolazioni per quello che è possibile, perché il Comune non è tanto ricco e poi lavoreremo per rifare e ridare un'immagine diversa al Paese di Isola del Piano, che negli anni 60 è stato completamente stravolto da un punto di vista architettonico. Abbiamo avuto anni fa una donazione che grazie ai 6.000 campanili siamo riusciti a ristrutturare da un'anziana signora di Isola del Piano, che è diventata adesso un luogo d'incontro sia per gli anziani e nella parte alta del palazzo, primo e secondo piano, c'è una realtà di giovani che fanno parte del progetto dopo di noi. Ed è veramente una ricchezza e una bellezza poter incontrare questi ragazzi, queste persone che sono diversamente abili, ma che hanno uno spirito e una forza che è impressionante e vederli magari delle sere giocare a carte di sotto, dove c'è lo spazio degli anziani, giocare a carte con gli anziani o discutere con questi è una cosa che rallegra l'anima.